Camera ardente nella clubhouse del campo di rugby pacevecchia per tributare l'ultimo saluto da parte degli amici di squadra, di cittadini, di sportivi e conoscenti ad Alfredo Dell'Oste, storico capitano del rugby Benevento, scomparso nella giornata di ieri prematuramente all'età di 49 anni. TV7 ha seguito il triste evento ascoltando le parole commossa del presidente del rugby Benevento, Rosario Palumbo. Sentiamo. È una giornata, come hai detto tu, brutta per tutta la famiglia del rugby Benevento, è una giornata da ricordare perché ricordiamo con affetto una persona che è stata sempre vicina al rugby Benevento, è stato uno degli storici del rugby Benevento, che la vita l'ha portato via prematuramente all'affetto dei suoi cari e di tutti gli sportivi. Io ho un bel ricordo di Alfredo, una persona che alla fine era sempre vicino a questa società, ha fatto tutta la trafila sia da giocatore, tecnico, consigliere, ha fatto un po' tutto. Quindi veramente incarna lo sportivo rugby Benevento. Ecco, oggi avete organizzato presso la Club BAUS un momento proprio per ricordarlo. Avete organizzato la Camera Ardente con i familiari e con tutti coloro e sono tantissimi che sono venuti qui a dare l'ultimo saluto ad Alfredo. Sì, ieri mattina quando è arrivata la notizia mi ha chiamato la famiglia per manifestare la volontà di portare Alfredo qui. Ci siamo messi subito all'opera per fare questa Camera Ardente rispettando in questo momento particolare tutte le norme Covid perché questi sono momenti particolari e c'è un po' più di lavoro da fare rispetto alle altre volte. Però l'abbiamo fatto con immenso piacere perché è una persona che merita e quindi mi sentivo di prendermi questa responsabilità per fare questa cosa. Ecco, lo so che è un po' prematuro. Adesso si vive il momento più delicato, il momento più toccante. Pensate di poter organizzare poi nei prossimi mesi quando tutto ritornerà a normalità anche qualcosa per ricordare la sua memoria? Sicuramente, sicuramente. Ci saranno delle manifestazioni e delle iniziative. Noi facciamo già due tornei giovanili quindi qualcosa sarà intitolato alla memoria di Alfredo.